Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo tornati su Le 4 dead Crash Allora 1, 2, l'abbiamo preso Dobbiamo andare per il terzo Qualquale Ok Come vedete qua Ci sono delle casse Nascoste Ok Ora Guarda cosa faccio Tac Ecco arriva il tank Pezzo di merda Morto No Sta risalendo Ole Ole Ok Dai Ok Corri Corri No Non cadere Mamma Mamma Merda Vediamo qua cosa c'è Ok Vabbè Ok Allora Non c'è niente Qua c'è un fucile a pompa Ma non mi serve Ok Questa porta si dovrebbe chiudere Ok Vai veloce 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 Ah ce l'ho fatta Allora Li attiriamo Ok Qualcuno Ho ucciso Ho visto Come cazzo fa A essere già lì Quella stronza Cazzo fa Quasi giù Oh che culo Ok Ok Guardate qua Ok Questo attirei i zombie Facciamo Però Voglio il mio kit medico Non c'è No Vabbè Uno ne ho colpito Cavolo Non si vede una minchia Qua adesso Ecco Sapevo Ok 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 Ok, quindi vai vai vai, aperti Ok, vai vai, curami, curami Ok, vai Allora, qui ci dovrebbe essere Se non mi sbaglio Ah, ok Ok, non è che ci vediamo che ci vediamo Ok 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 Ok, stiamo salendo L'ho fatto veramente benissimo sta mappa Ok, dobbiamo arrivare là Ok Ok Mi levita il cazzo Ok Ok Ok, serve No, ho sbagliato Mi curo Ok Ok, ci siamo Ok, di qua Mamma, questo è difficile Da buttare giù, eh Già buttato giù Bianca ha sconfitto il boss Non si apre la porta Ah, di qua Ok, si è aperta da sola Ok Ok, aspettate Andiamo Ok Si capisce un cazzo Ok Eh, va affanito culo Bolso morto Oh no Ok, forse di qua No Non riesco a capire Aspetta Se mi fanno passare Eh, va affanculo Joker di merda Me lo uccidete per favore Sto cavolo di Joker Oddio Non si può Cazzo Adesso vieni Stronza da me Curami Allora Dove bisogna andare Per andare avanti Oh Tu mi hai rotto il cazzo Muori Nessuno che ha un cazzo Di kit medico Boh, sono fottuto io Eh, zio Se mi lasciate qua Oh, meno male Dopo tre anni Per fare quel cavolo di salto Ce l'ho fatta Oh, mamma mia Mamma mia Che faticazza, ragazzi Allora Vediamo un po' Quanti livelli ci mancano Due Mi pare Putta troia Mi dai il mio kit medico? Allora Vediamo un po' Che armi ci sono Ok Allora Vediamo quant'è Si Due livelli No Non si è che è l'ultimo Uno Due Tre Quattro No, due Mi mancano Quindi ci vediamo La prossima volta Ciao